Sono in tutto cinque parlamentari siracusani eletti domenica e il pieno assoluto l'ha fatto il Movimento 5 Stelle che è riuscito a fare eleggere tre deputati alla Camera e un senatore. Si tratta della rosolinese Maria Marzana, insegnante precaria che è stata riconfermata al Parlamento, il canicattinese Paolo Ficara e Filippo Scerra. Al Senato invece è andato il medico Sciclitano, ma residente ad Augusta, Pino Pisani. Nel collegio plurinominale invece ce l'ha fatta la parlamentare ed ex ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo che era in corsa in due collegi nelle file di Forza Italia. Prestigiacomo rivolge un riconoscimento ai candidati che si sono spesi con straordinario impegno in queste settimane. Nicoletta Piazzese, Daniela Armeni alla Camera, Mariella Muti al Senato, Rosi Pendino e Fabio Cancevi nel plurinominale hanno affrontato questa sfida con una determinazione che non è stata intaccata dalla consapevolezza che si trattava di una competizione in cui il centrodestra partiva svantaggiato. Prestigiacomo inoltre sostiene di essere soddisfatta dal risultato conseguito nei due collegi plurinominali in cui era capolista che si collocano tra il 18,2 e il 21%, superando il dato delle regionali. Questi dati sono elementi sui quali si può costruire il domani di Forza Italia e Siracusa e in Sicilia. Conclude la Prestigiacomo.